Si torna finalmente a scuola. A casa, computer spenti e migliaia di studenti teramani di nuovo in aula, con tanta voglia di stare insieme ai propri compagni ed anche ai propri professori. Ed ecco che arriva l'allarme della CGL Teramo. Per il prossimo anno scolastico, in provincia di Teramo, si calcola che ci saranno 587 alunni in meno. Le motivazioni vanno rintracciate nel continuo aumento della denatalità, delle migrazioni dalle aree interne e di un esodo diffuso delle nuove generazioni. Vediamo in numeri la situazione. In questo anno scolastico 2020-2021 sono 39.000 gli studenti delle scuole pubbliche nel Teramano. Il prossimo anno scolastico saranno 38.413. Un calo che sta diventando molto preoccupante. In tutta la regione Abruzzo, per l'anno scolastico 2021-2022, sono previsti 2.073 alunni in meno. In totale saranno circa 167.000 le studentesse e gli studenti che frequenteranno le scuole pubbliche abruzzesi. La provincia di Teramo paga un tributo salato a queste riduzioni, inferiore solo a quella di Chieti, che perderà 990 alunni, 380 a Pescara e 116 l'Aquila. È facile immaginare che anche il prossimo anno scolastico non sarà regolare. Purtroppo la pandemia farà ancora sentire i suoi effetti. Per questa ragione il sindacato Teramano ricorda quanto sia importante consolidare e potenziare un organico docente e ata che consenta di poter far scuola rispettando i requisiti del distanziamento, della sicurezza e dell'offerta formativa di qualità. Un organico stabile e non variabile in base al numero di alunni che si iscrivono. Per la CGL di Teramo si tratta di una vera e propria emergenza che dovrebbe determinare interventi di lungo periodo con proposte che affrontino i nodi strutturali di questi problemi. In giro però, secondo il sindacato, c'è aria di rassegnazione e un silenzio assordante.